1,27, questo è il numero che indica l'RT del Molise, il più alto d'Italia, secondo il monitoraggio relativo alla settimana 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021 dell'Istituto Superiore di Sanità. Un dato che equipara la piccola regione alla Lombardia, ma sulla base dell'ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore fino al 15 gennaio, il Molise resta in giallo e col nuovo DPCM verranno valutate eventuali proroghe. Nessun inaspiramento delle misure per il contrasto della diffusione del virus, quindi, ma la regione resta sorvegliata speciale in quanto si è confermato il trend dell'aumento dell'RT e della curva pandemica. Il governatore Toma non ha intenzione di prevedere maggiori restrizioni, convinto che il giallo rafforzato sia adeguato al periodo. Ho già predisposto ulteriori misure di prevenzione, noi cerchiamo di agire in prospettiva, non in itinere, ha dichiarato a Lanza, facendo riferimento alle tre ordinanze. La 51 del 7 dicembre, la 2 emessa il 5 gennaio scorso e la 3 del 6 gennaio. L'epidemia si trova in una fase delicata che sembra preludere a un nuovo rapido aumento del numero di casi nelle prossime settimane, ha detto il numero 1 dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, spiegando che questo scenario potrebbe verificarsi proprio nel caso in cui non verranno previste nuove restrizioni. Oggi possiamo presentare un quadro generale a livello nazionale. Grazie.